buongiorno a tutti amici nexus lab sono alessandro bertola e qui davanti a voi abbiamo due dispositivi tra i più discussi del momento il nexus 5 e l lg g2 due smartphone gemelli a livello hardware ma con differenze macroscopiche differenze che andremo a scoprire nel nostro video confronto qui di seguito davanti a voi iniziando dalla scatola scatola che è come potete vedere molto diversa quella del nexus più piccola con questo molto carino colore azzurro andiamo ad aprirla ma anche molto più vuota tra virgolette andiamo ad aprirla qui sopra avremo il nostro nexus qualche piccolo manuale di istruzioni qua avevamo il caricabatterie con il cavo dati micro usb usb niente cuffie auricolari cuffie auricolari che è la differenza sostanziale tra le due dotazioni dei due prodotti qua invece avevamo il g2 cuffie auricolari in di buona qualità quad bit 2 molto buone cavetto micro usb usb condiviso con il caricabatterie da viaggio come detto anche nella recensione del g2 piuttosto alto quindi già da qua troviamo la prima differenza con google che non inserisce un auricolare scelta discutibile ma ovviamente quasi tutti noi abbiamo almeno un auricolare anche di buona qualità a disposizione eccoli qua i due prodotti tanto discursi tanto che fanno nascere crescere tanti dubbi a noi utenti visto che sono due prodotti della più o meno medesima fascia di prezzo con nexus 5 costa leggermente meno ma con caratteristiche hardware praticamente identiche andiamo a valutarne l'hardware abbia il design come potete vedere molto più pulito il design del g2 confrontando soprattutto le le cornici anche se tutti e due presentano praticamente un design molto minimale il g2 non presenta tasti sia sul frontale sia sulla cornice mentre appunto come dicevamo il nexus 5 presente il bilanciere del volume e il tasto di blocco sblocco ben nascosti quindi anche se ci sono inoltre hanno un'ottima corsa non è un dramma parte posteriore come potete vedere anche in questo caso molto pulita costituita da materiali diversi qua abbiamo una plastica sul nexus 5 rigida molto dura di buona qualità il bianco del nexus 5 tende al pan mentre il g2 anche qua in versione bianca fortunatamente ha una texture che è non in rilievo molto carina anche se questo tipo di policarbonato lascia qualche ditata abbiamo anche una differenza estetica a livello di parte della fotocamera con il nexus 5 che ha questo enorme circolo che protegge tutta la fotocamera che serve appunto per inserire degli obiettivi magnetici cosa che praticamente uno su un milione avrà fatto mentre il g2 incorpora vicino alla fotocamera i tasti di questo bilanciere e il tasto di blocco sblocco del telefono nonché di accensione più il piccolo sensore classico molto più classico in questo caso parte sotto parte sotto anche qui molto simile troviamo due griglie una per l'alto parlante una per il microfono il jack da 3,5 nel g2 sotto mentre nexus 5 e sopra scelta migliore secondo me nel nexus 5 dato che quando mettiamo il device in tasca tendiamo a tenere le cuffie sopra quindi è più comodo che il jack delle cuffie sia in alto piccolo dettaglio ma che va evidenziato abbiamo poi inoltre il connettore micro usb normalissimo led di stato presente in entrambi i casi classico nel nexus posto qua in basso invece piccolino nel g2 posto vicino al capsula auricolare a livello di dimensioni siamo molto simili non si notano praticamente differenze con un nexus 5 che ha delle dimensioni pari a 137 x 69 x 8.59 mm di spessore mentre il g2 leggermente più grande un 138 x 7 x 8.9 mm di spessore più grande ma giustificato giustificato da cosa da la presenza di uno schermo più grande di 0.25 pollici schermo più grande che però non non si evidenzia nelle dimensioni dato che praticamente la cornice del g2 è inesistente come potete vedere è una cornice praticamente che non si vede nel nexus 5 lgo ha fatto comunque un ottimo lavoro come potete vedere la cornice leggermente più spessa piccoli dettagli differenza di peso nexus 5 che pesa veramente pochissimo 130 grammi ma g2 che pesa 143 grammi ma giustificati da una batteria di molto superiore andiamo avanti direi che il design è un aspetto molto personale a livello di ergonomia tutte e due sono molto buoni un leggermente più stretto il nexus 5 un po più scivoloso il g2 ma ci sentiamo di dire che sono più o meno uguali è un po più scivoloso non tanto per la cover liscia quanto per il profilo curvo mentre il nexus 5 essendo un po più spigoloso tende a fare più presa sulla mano con una singola mano ma come detto sono veramente dettagli piccoli piccoli hardware hardware inizierei dal display display come detto ips molto simile in entrambi i casi scusate messaggi che arrivano ips in entrambi i casi soltanto che qua abbiamo un display da 4.95 pollici ve lo metto anche qua in manuale a metà 4.95 pollici nel nexus 5 che in questo momento è uno sfondo più luminoso ok e invece da 5.2 nel g2 entrambi molto molto belli ritengo leggermente superiore quello del g2 soprattutto a livello di luminosità e di nitidezza proviamo a vedere un esempio con i nostri video anche se vi dico subito ci troviamo a livelli altissimi entrambi i casi un ips lg è proprio maestra dell'ips e si vede fa questi pannelli veramente belli lasciamolo caricare e intanto carichiamo anche da qua cerchiamo di farli partire in contemporanea ok un attimo solo siamo tutto in streaming però il video è il medesimo leggermente in vantaggio il nexus 5 abbassiamo il volume di entrambi perché il volume volevo farvelo analizzare dopo ok più o meno siamo simili ok c'è qualche secondo di differenza non so se riuscite ad apprezzare allora il nexus 5 a parte la luminosità che è difficile impostare al medesimo livello ma il g2 presenta maggiore nitidezza nitidezza dovuto al pannello non tanto alla risoluzione che la medesima e alla tecnologia anche che è sempre ips anche i neri sono leggermente più profondi nel g2 anche qua a livello minimo mentre l'angolo di visuale è allo stesso livello come potete vedere ci troviamo un angolo di visuale praticamente di 90 gradi anche qui a livelli altissimi mentre ci troviamo nella nostra cartella di prova vi volevo far sentire l'audio ok disconnettiamo il bluetooth perché eravamo connessi a una periferica esterna ok partiamo con shakira solito brano che sentiamo di solito allora è da un po' che non vi facevano sentire il nexus 5 a livello di audio e non è stato un po' che non vi facevano sentire il nexus 5 a livello di audio se ne sarete rimasti sorpresi immagino sentiamo ora il g2 aspettiamo che scarichi lo streaming un secondo solo allora come avete avuto modo di sentire allora il g2 non è un mostro a livello di alto parlante di sistema ma riesce comunque a distanziare parecchio il nexus 5 ma questo più pre demeriti del nexus che di meriti del g2 infatti il nexus ha un alto parlante sottodimensionato con un audio veramente basso è praticamente atonico non ha toni mentre il g2 ha una gamma di alti superiore pur non presentando chissà che bassi e che volume questo è un difetto storico dei nexus se confrontiamo questo nexus con un htc1 perde di netto a livello di alto parlante lo sappiamo ricezione ricezione molto buona in entrambi i casi nexus 5 con l'ultimo aggiornamento leggermente in vantaggio volevo farvi vedere un confronto sulla navigazione web come potete vedere io posso sbloccare il g2 tramite la funzione knock con il doppio tap sul display funzione che è di base non c'è su android vi abbasso un pochino la luminosità sul nexus perchè è troppo alta in questo caso uso chrome anche se sul g2 è presente anche sono presenti anche il browser di lg stessa richiediamo il sito desktop riaggiorniamo sul g2 richiediamo anche qua il sito desktop e carichiamo allora già a livello di scroll notate più o meno le medesime performance scroll praticamente identico a livello di velocità vediamo un attimo 1 2 3 nexus 5 che è sempre il risultato superiore di qualche secondo sia a livello di rendering dell'intera pagina sia a livello di incolonnamento più preciso sia con chrome sia con altri browser il g2 invece in qualche caso pecca nell'incolonnamento automatico proviamo adesso con questo articolo potete vedere sensibilmente più veloce il nexus 5 pur avendo il medesimo hardware leggermente più fluido a livello di interfaccia fluidità estrema in tutti e due i casi pur avendo delle animazioni nelle home screen il g2 non rallenta drawer uguale sempre fluidissimo quindi a livello hardware veramente identici per quanto riguarda la fotocamera come è scritto anche nella recensione prendiamo questo coltellino svizzero come riferimento g2 è leggermente avanzato dal leggermente avvantaggiato dal maggior numero di megapixel presenti nel sensore anche se il nexus 5 finalmente può dire la sua non come il nexus 4 che era insufficiente in quasi tutti i casi ottime foto ottimo dettaglio nel g2 come potete vedere abbiamo delle ottime foto è un ottimo dettaglio guardate che dettaglio e che nitidezza adesso facciamo la medesima foto con il nexus 5 allora si difende molto bene come potete vedere un po' più opaca la foto ma comunque ottima quindi da questo punto di vista il g2 è un po' avvantaggiato ma niente di eccezionale a livello software puro le differenze ci sono e sono tante però qui è proprio due mondi differenti android stock presenta poche app adesso non guardate questo è il mio nexus 5 personale quindi ci sono miliade di app ma ne presenta veramente poche preinstallate a parte quelle di google il g2 ha il vantaggio di avere quick memo per prendere le appunti direttamente su schermo ha il vantaggio di avere anche applicazioni per gestire i nostri dispositivi in casa come televisioni amplificatori eccetera e abbiamo tutta un'altra serie di applicazioni direttamente installate da da lg come safety care la ricezione cb lo smart board e lg backup che è sempre molto utile oltre tutta una serie di personalizzazioni della fotocamera come modalità aggiuntive questi sono proprio due mondi separati a livello software qua non mi sento di dire qual è il migliore l'unica cosa che un po' manca al nexus 5 è che in effetti ci fa veramente godere questo g2 e la funzione knock che ho imparato ad apprezzare tantissimo recentemente pur avendo qualche limite a livello di reattività ogni tanto se sblocchiamo e riblocchiamo velocemente lo smartphone a volte ci fa attendere qualche secondo in più ehm volevo farvi vedere la tastiera tastiera molto simile qua usiamo hangout allora tastiera basilare di android su nexus 5 ma sempre molto molto veloce e precisa come potete vedere non ho sbagliato una lettera pur scrivendo molto veloce tastiera di lg anche questa abbastanza semplice aggiunge sfrutta i 5.2 pollici aggiungendo questa riga dei numeri così da non essere in seconda funzione adesso ho il correttore automatico quindi nexus ma la corretto medusa ma sarebbe stato giusto al primo colpo in entrambi i casi quindi molto molto precisa ehm la navigazione ehm la scrittura ehm altre caratteristiche ehm a parte il design a parte l'hardware che è molto simile non ce ne sono c'è il prezzo che può essere una vera variante aggiuntiva nexus 5 infatti in versione europea lo si può trovare anche leggermente al di sotto dei 300 euro il G2 è invece una settantina di euro in più ehm che dire sono due dispositivi estremamente simili ma diversi nel concetto android puro sempre aggiornato almeno per circa due anni sul nexus 5 e le G2 ci eh facciamo ad LG eh che ha promesso aggiornamenti continuativi con feature che saranno portate anche su questo G2 ehm due dispositivi che eh vanno comprati a seconda del gusto personale non mi sento di dire meglio questo meglio quell'altro l'unica cosa che veramente il G2 ha è una batteria eccezionale la batteria del G2 può essere l'unica cosa che veramente vi fa propendere per questo dispositivo a parte le funzioni infatti è una batteria che riesce a farci fare un giorno e mezzo sul nexus 5 ce la sogniamo nexus 5 ogni giorno facciamo fatica arrivare a sera sul G2 invece molto facilmente faremo un giorno e mezzo senza nessun problema e pur rimanendo un dispositivo estremamente leggero e portatile un saluto da Alessandro per Nexus Lab un saluto da Alessandro